Hanno giocato con le nostre vite, vogliamo chiarezza. È il coro quasi unanime che si solleva a Gioia Tauro. In seguito al clamore mediatico sviluppatosi intorno alla vicenda dello smaltimento illecito dei rifiuti provenienti dall'impianto di Vigiano che sarebbe stato operato dalla IAM, i timori accrescono ancora di più le anze tra i cittadini, che adesso vogliono vederci chiaro, andando fino in fondo alla vicenda. Troppe morti per tumori e sospetti che alleggiano tra i cittadini Gioia Tauro sono molteplici. Il tasso di mortalità e malattia, anche tra giovanissimi, in effetti fa riflettere. Hanno giocato con le nostre vite, con i nostri parenti, che buona parte sono defunti, alcuni stanno lottando contro malattie, tra cui anche il ragazzo di mia figlia, e da sette anni ha un tumore, cioè linfoma di Ocching. Quindi vogliamo che ci sia chiarezza. Il ragazzo è giovane? Sì, sì, 27 anni. Oltretutto un sacco di defunti abbiamo avuto, io parenti, amici vicini di casa. Qualcosa c'è? Ma pensi che è la IAM che causa il posto? Mi sembra che un po' ci sia della IAM, opera sua c'è. Non è che... E in pratica il discorso è che c'è un elevato tasso di mortalità e di malattie tumorali. Un'altra cosa strana è come mai la dottoressa Bertucci non è stata sospessa dall'incarico, visto che è indagata. Cioè questa è una cosa veramente anormale. Secondo lei dovrebbe essere... Certo, sospessa dall'incarico, fino a quando la magistratura non fa il soccorso, come avviene in tutti gli enti pubblici. Continuiamo le nostre battaglie affinché venga fatta giustizia. Vogliamo giustizia per i nostri cari, come vedete là, che sono morti. E finché non avremo soddisfazione, noi saremo sempre sul campo. È giusto che bisogna far luce su queste cose, perché è impossibile che una città, diciamo, ci sono tutti questi ammalati. Non è una cosa normale. Bisogna prendere... Bisogna mettersi una mano sulla coscienza. Non so, queste persone, se sono cristiani, se credono a Dio. Io non lo so, però non si gioca sulla vita umana delle persone. Qua parliamo di bambini, di anziani. Secondo me certe cose non vanno fatte. Tutto per il denaro. I cittadini sono preoccupati e stanno organizzando una manifestazione per chiedere maggiore chiarezza. Gli abitanti marceranno verso la IAM la prossima settimana. Stiamo organizzando per la prossima settimana una grande manifestazione che coinvolga tutti i comitati gioiesi e non solo, ma anche tutti i sindaci della Piana, tutti i comuni della Piana e anche il sindaco di La Mezzeterme e di Bisignano, che sono gli altri due comuni in cui sono stati scaricati questi materiali pericolosi. Noi li inviteremo, li aspetteremo qua e insieme marceremo davanti alla IAM. Continuano comunque a crescere i tumori. Abbiamo un registro con cartelle cliniche infiniti. Abbiamo raccolto 10.000 firme che abbiamo spedito ai vari ministeri. Nessuna risposta, ovviamente. Adesso confidiamo nella magistratura. Ci crediamo poco da un certo punto di vista perché abbiamo avuto il dispiacere prima di essere riusciti in qualche modo a far sequestrare la quartellina del depuratore e poi avere la beffa di essere stato dissequestrato con la semplice promessa di ulteriori controlli a posteriori, quando i controlli dovevano essere fatti prima. Intanto è intervenuto anche Domenico Mallamaci, amministratore delegato della IAM, che afferma siamo convinti di aver operato nel rispetto della legalità e dell'ambiente. Siamo assolutamente tranquilli, pur non conoscendo le carte che guidano e governano l'inchiesta della Procura di Potenza. Per quanto ci riguarda siamo assolutamente convinti di aver operato, come sempre, nel rispetto della legalità e nel rispetto dell'ambiente. In questo caso, purtroppo, veniamo accusati di trafficare illegitamente rifiuti pericolosi, quando invece dovevano essere non pericolosi. Quindi trattiamo, secondo la Procura di Potenza, rifiuti pericolosi in luogo di rifiuti non pericolosi. Le ripeto, non è assolutamente così. Noi abbiamo trattato, fino a dicembre del 2014, è solo ed esclusivamente il codice 16.10.02. Questo codice identifica delle acque particolari di lavorazione delle estrazioni del petrolio, che comunque sono non pericolose. Ne siamo certi perché la rete di controlli, del sistema di controlli nel rispetto dell'atto autorizzativo regionale e delle normative nazionali ci consente di dirlo. Abbiamo, su ogni carico che viene portato in impianto, che ci è arrivato in impianto di questa commessa, avevamo l'obbligo di controllare i parametri fondamentali che ne avrebbero determinato la pericolosità o meno. Non abbiamo mai riscontrato un rifiuto pericoloso. Non avremmo avuto nessun interesse a trattare rifiuti pericolosi. Non abbiamo interesse a trattare rifiuti che potrebbero danneggiare la salute dei cittadini. Ci siamo sempre messi al servizio dell'ambiente con un impianto che, grazie a Dio, in vent'anni non ha mai avuto nemmeno una sanzione amministrativa. Ci ritroviamo in questa ennesima bufera giudiziaria, ma siamo fiduciosi che la magistratura possa velocemente derimere questo difficile problema e che lo faccia soprattutto in maniera veloce, perché il danno all'immagine e il danno soprattutto che si provoca nelle menti delle persone che continuano ad associare le morti e i tumori a operazioni di questo tipo non ci sta assolutamente bene. Non siamo trafficanti di rifiuti, siamo persone per bene che cercano di operare correttamente.